Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube eccoci in questo video per andare a vedere questo nuovo evento giornaliero Viva Mexico su Asphalt Legends Unite nella durata di 4 giorni, premi, progetti Citron, GT by Citron, gettoni e crediti ma andiamo subito a vedere i premi posizioni, ok sono gli stessi, li saltiamo premi club, due pacchetti inutili di classe D premi singolo, invece iniziano ad essere un po' più interessanti perché abbiamo 100 oggettoni, qui una busta, ok va bene, quelli vanno bene un po' di crediti, derapa, tempo con nitro avvitamenti, due avvitamenti, andiamo a prendere fino a 100 oggettoni e poi qui andiamo a prendere due progetti della Citron andando a vincere la gara, si gioca con la Citron in prova gratuita quindi andiamo e poi Grazie a tutti Sembrano tosti gli avversari Si stanno facendo di testa a testa E poi mollano nel finale Come solito diciamo Quindi con 1,21,7,6,9,9 Per l'esattezza andiamo a chiudere Questa prima prova Vediamo se abbiamo peccato Tutti i premi Si vediamo Come siamo messi con la Citra in GT Non ricordo Non dovrei avere forse nemmeno la prima stella Invece prima ce l'ho Questa è la seconda Quindi buono Comunque andiamo a prendere due progettini Che servono quasi a niente Però tutto fa brodo Quindi andiamo a raccoglierla E... Bene Direi di chiudere qua il video Si prosegue in questo modo Si fanno tranquillamente gareggiando gli obiettivi Quindi Niente di complicato Ragazzi mi raccomando Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale E ci vediamo presto con altri video Ciao a tutti Ciao a tutti